In studio, Veronica Puglisi. Gentili telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di video mediterraneo. Si è riunito questa mattina nella Sala Spadaro del Comune di Modica il coordinamento regionale dei comitati costituiti a difesa dei tre tribunali siciliani soppressi. Obiettivo è chiedere al Governo nazionale e regionale la sottoscrizione della Convenzione che permetterebbe di utilizzare i tribunali soppressi come sede di staccata. Riflettori puntati questa mattina sui tre tribunali soppressi siciliani di Modica, Mistretta e Nicosia. Si è svolta una riunione nella Sala Spadaro del Comune di Modica per discutere delle iniziative da intraprendere al fine di salvaguardare il destino delle strutture soppresse. Presente il coordinamento regionale dei comitati costituiti a difesa dei tre tribunali, i rappresentanti delle istituzioni locali di Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica, il deputato nazionale Maria Lucia Lorefici e il senatore Giuseppe Pisani, i rappresentanti istituzionali di Mistretta e di Nicosia. Obiettivo avviare iniziative per la sottoscrizione della Convenzione per l'utilizzo di Palazzo di Giustizia quale sede di staccata del Tribunale di Ragusa. Insieme si vuole individuare una strategia forte e convinta perché si possa andare a quest'incontro, si possa fare la convenzione anche perché la regione siciliana ha già previsto una norma, ha creato un capitolo ed è disponibile a farsi carico delle spese. Facendo questo significa che il Palazzo di Giustizia di Modica, che sappiamo quanto vale per la sua idoneità, per la sua specificità, possa essere utilizzato come sede di staccata del Tribunale di Ragusa. La rivendicazione per salvare i tribunali soppressi non si è mai fermata, è stato detto e proseguirà al fine di tutelare i tre tribunali siciliani. Si potrebbero riaprire già domani mattina, nel senso che baserebbe che il Ministro della Repubblica, il Ministro della Giustizia, firmasse una convenzione con la regione Sicilia e praticamente potremmo riaprire immediatamente tutte e tre tribunali. Il Presidente della Regione Siciliana, Nellomusumeci, interviene dopo la polemica che vede protagonista la SAC e la vendita delle quote a privati dell'aeroporto di Catania e fornisce rassicurazioni sul futuro dell'aeroporto di Comiso. La quota pubblica è essenziale, ha detto, per questo non escludiamo o è necessario la possibilità di intervenire direttamente. Per noi lo scalo di Comiso rimane strategico nel sistema aeroportuale siciliano, specie se guardiamo alla costante crescita di Fontana Rossa. Questo è l'unico dato certo che resta inalterato anche nella prospettiva di apertura della società di gestione a nuovi capitali. Sono le parole del Presidente della Regione, Nellomusumeci, che con una nota fornisce rassicurazioni sul destino dell'aeroscalo ebleo dopo le polemiche innescate che vendono protagoniste la SAC e la vendita delle quote a privati dell'aeroporto di Catania. Sulla questione qualche giorno fa erano intervenuti il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo e il segretario generale dell'UST CISL Ragusa Siracusa Paolo Sanzaro. La Campo aveva utilizzato toni duri. L'aeroporto di Catania ha preso possesso di quello di Comiso per tenerlo fermo, inchiodandola ad una croce dentro una palude di debiti incredibili per dimostrare all'eventuale acquirente che non avrà alcuna concorrenza, ha detto. Anche il segretario della CISL Sanzaro parlava, riferendosi all'aeroporto di Comiso, di infrastruttura depotenziata. Dobbiamo capire, ha detto, se volutamento per incapacità managgeriale. Le loro accuse erano rivolte soprattutto alla Regione Rea di non aver voluto realizzare un sistema aeroportuale integrato. Immediata la risposta di Musumeci al termine di un incontro con gli operatori economici. L'ho assicurato al sindaco di Comiso, Maria Rita Sgembari, ha detto che può contare sulla condivisione e sul sostegno del Governo regionale. La quota pubblica è essenziale, per questo non escludiamo, ove necessario, la possibilità di intervenire direttamente. Un consiglio comunale aperto per esprimere solidarietà a Riccardo Zingaro, al quale è stata incendiata l'auto lo scorso 21 novembre. Presente anche la deputazione nazionale e regionale. L'occasione è servita anche per fare il punto sullo scempio, in cui versa tutta la fascia trasformata del Ragusano fino a quella del Nisseno. La città di Acate non solo si è stretta ieri sera attorno a Riccardo Zingaro, responsabile provinciale dell'OIPA e da sempre attivista contro i reati ambientali. A cui è stata incendiata l'auto parcheggiata sotto casa in piena notte lo scorso 21 novembre. Un chiaro segnale intimidatorio contro Zingaro, che da sempre ha messo la faccia per denunciare lo scempio in cui versa la foce del fiume di Rillo, la costa di Marina di Acate, sommerse dai rifiuti di ogni genere. Ieri sera infatti è stato convocato il Consiglio Comunale dal Presidente Gianfranco Ciriacono su richiesta dell'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Di Natale, con un unico ordine del giorno, ambiente e legalità, il diritto di denuncia nell'esercizio delle funzioni di tutela ambientale, atto intimidatorio subito da Riccardo Zingaro, analisi e strategie. Al Consiglio Comunale c'erano tra gli altri anche il senatore Pippo Pisani, le deputate nazionale regionale Maria Lucia Lorefici e Stefania Campo, il deputato regionale Giorgio Assenza, oltre ai rappresentanti sindacali, alla Col di Retti e alla CNA. Nel corso della seduta è stato anche evidenziato lo scempio a cui è soggetto a tutta la fascia trasformata del Ragusano e del vicino Nisseno e a tal proposito è stato chiesto alle autorità competenti precise risposte e interventi risolutivi. Il tutto è evidenziato in un documento approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale. Chiediamo che il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Ambiente accendino un faro su Acate per verificare sia il fatto doloso sia per monitorare quello che possono essere le emergenze a rifiuti sul fiume di Rillo. Faremo riferimento e chiederemo un maggiore sforzo da parte della Regione per quanto riguarda la bonifica del territorio. Chiederemo al Demanio Marittimo e al Genio Civile di attenzionare quello che possono essere il fiume di Rillo e la spiaggia di Macconi così come chiederemo all'ARPA di verificare e monitorare le condizioni dell'aria e dell'acqua sul nostro territorio. Quindi ci saranno tutta una serie di iniziative che porteranno sicuramente alla nascita di un osservatorio affinché Riccardo Zingaro non sia solo l'unico a denunciare questa situazione ma che ci sia questo osservatorio che controllerà e monitorerà il nostro territorio. Acate dunque ha portato la sua solidarietà a Riccardo Zingaro. Spero che in questo Consiglio serva soprattutto a far risvegliare gli animi di tutti i cittadini acatesi e ad attenzionare maggiormente la politica su questa grossa problematica che appunto è sfociata in questo atto intimidatorio nei miei confronti. Sono sicuro che la magistratura e tutti gli organi inquirenti stanno andando a fondo a questa situazione che appunto è sfociata dalle mie denunzie di quelle dei parlamentari del Movimento 5 Stelle proprio sul peggiorarsi della situazione dei rifiuti a Marina di Acate. Dure parole di condanna per l'atto intimidatorio e per lo scembio ambientale in corso sono state espresse anche dal sindaco Giovanni Di Natale il quale ha garantito anche a nome dell'intera giunta comunale il massimo impegno per una risoluzione totale del problema. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale Etneo nei confronti di nove persone, sei in carcere e tre gli arresti domiciliari indagate in concorso per corruzione perpetrata nell'esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidate all'ANAS di Catania. Nove persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Catania nell'ambito di un'inchiesta per corruzione sull'esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidate dal locale compartimento dell'ANAS nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde, sei le persone in carcere e tre ai domiciliari, ordinanze eseguite dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria emessi dal GIP. E' il terzo provvedimento cautelare emesso nell'ambito delle indagini buche d'oro su appalti per milioni di euro e che hanno portato in passato all'emissione di altre nove misure restrittive. Questa mattina i dettagli in conferenza stampa alla Procura Etnea. Le indagini sono state condotte attraverso le intercettazioni ambientali, accertamenti bancari, disamina della documentazione amministrativa concernente ai lavori oggetto di illecite ed azioni, nonché dal riscontro degli elementi desunti degli interrogatori, nel corso dei quali più funzionari ANAS coinvolti rendevano ampie confessioni. Questo sistema che veramente era diffusissimo nell'area compartimentale di Catania prevedeva che i risparmi sulla qualità dei lavori che andavano a compromettere la sicurezza costituissero poi la base, il monte di denaro che veniva poi spartito, secondo quelle proporzioni che vi abbiamo detto, tra le imprese che risparmiavano e gli funzionari che non controllando consentivano che questi risparmi venissero fatti. Una ditta che si era giudicato i lavori per la tappa alpina di montagna che prevedeva il tragitto da Ragalna sull'Etna, lì dovevano essere effettuati i lavori di messi in sicurezza di quella strada che non sono stati fatti assolutamente a regola d'arte. Oggi possiamo dire che un grande capitolo è stato chiuso, ovviamente siccome sappiamo che tutto quello che è emerso non è tutto quello che di illecito è stato fatto, se vi sarà una resipiscenza da parte delle persone tratte in arresto nell'indicare nuovi episodi, ovviamente la magistratura è ben lieta di sentire e poi di agire di conseguenza. I fatti hanno portato alla luce dunque nuove casistiche di lavori non eseguiti a regola d'arte sulle principali strade della Sicilia centro-orientale. Non solo la mancata scarificazione dell'asfalto da rimuovere, quale stratagemma per risparmiare oneri da tramutare in mazzette, ma anche la mancata parziale rimozione di barriere incidentate o inadeguate e il taglio di sterpaglie lungo le arterie innescano i già rodati e noti circuiti corruttivi. Analizzando le carte dei vari contratti, dei vari alpalti, possiamo dire truccati, in alcuni casi abbiamo trovato dei veri e propri pizzini in cui le parti si accordavano sui lavori da non eseguire, su come eseguirli effettivamente, su quali parti andare a risparmiare, quanto risparmiare. Quel pizzino messo a confronto con la contabilità ufficiale dimostrava la falsità di quello che veniva documentato. Quindi per noi la traccia documentale è stata un riscontro formidabile. Una violenta esplosione si è verificata in un'abitazione al Civico 7 di via Paternò ad Acitrezza, frazione di Acicastello. Un uomo di 31 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasferito in ospedale al Cannizzaro. L'uomo non è in pericolo di vita, ha riportato ostioni sul corpo ed è stato ricoverato. Sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione di Acicastello e del nucleo operativo della compagnia di Acireale. 20 giorni di indagini a Modica per l'omicidio di Peppe Lucifora. Ancora nulla e non si conosce neanche la dinamica del delitto. Un silenzio angosciante. Tre settimane di indagini e ancora non si conosce nulla sulla dinamica e su quanto è accaduto in quell'appartamento di Largo, 11 febbraio a Modica. Un quartiere tranquillo, catapultato in un vortice di attenzione mediatica, a cui di certo non era pronto, riflettori puntati su quel piccolo appartamento dove la vita ha cessato di essere tale per dare spazio alla follia omicida. Gli investigatori non rilasciano dichiarazione alcuna. Fondamentali adesso i dati dei RIS, che siano in corso approfondimenti per capire chi sia l'esecutore materiale dell'omicidio tra due o più persone, non è dato sapere. È presumibile infatti che gli investigatori abbiano già individuato una rosa di nomi che sarebbero i principali sospettati e tra questi solo il riscontro del DNA in quella stanza potrà dare la certezza. Tre settimane di vuoto per i parenti e gli amici di Peppe, molti dei quali non credono al delitto passionale. Come altri invece rimarcano che chi è andato lì è entrato col fine mirato ed oculato di eseguire un compito e l'asfissia di Peppe era il punto all'esecuzione. Supposizioni che si alternano in queste ore incessantemente. C'è sete di giustizia e di verità a Modica. Perché chi ha ucciso Peppe ha sentito l'esigenza di chiudere a chiave la porta della camera da letto? Perché Peppe non avrebbe urlato? L'asfissia è stata causata da un soffocamento riconducibile a un bavaio che gli tappava la bocca? La verità potrebbe essere davvero chiuse in quel tablet sotto perizia. Interrogativi, incertezze, dubbi che da oltre 20 giorni rimbombano e chiedono risposta. Risposte che dovranno arrivare per forza ai familiari di Peppe che ancora non vogliono parlare e confermano di voler continuare nella via del silenzio. Quest'ultimo paradigma costante di un giallo che non potrà durare in eterno. La giunta regionale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale. Nei prossimi tre anni saranno banditi concorsi per 1.500 posti di lavoro nelle amministrazioni regionali. Nei prossimi tre anni contiamo di poter bandire concorsi per circa 1.500 posti nell'amministrazione regionale, procedendo anche al superamento definitivo del precariato. La macchina regione ha bisogno di forze nuove e fresche per affrontare la sfida del futuro. Questo è il primo passo. Il governatore siciliano Nello Musumeci commenta così l'approvazione da parte della giunta regionale della nuova dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, su proposta dell'assessore alla funzione pubblica Bernadette Grasso. Documenti che sintetizzano le principali informazioni sui dipendenti in termini quantitativi e competenze. La pianificazione delle risorse umane che emerge dal piano triennale dei fabbisogni prevede il rafforzamento dei centri per l'impiego, in attuazione delle disposizioni statali, il superamento definitivo del precariato storico regionale, l'assunzione di personale presso l'ufficio stampe e documentazione della regione, le cui procedure sono state avviate nel 2019, le procedure di mobilità per la centrale unica di committenza. L'attuale analisi delle esigenze e dei fabbisogni di personale, spiega l'assessore Grasso, è finalizzata a ottimizzare e razionalizzare le risorse umane della regione. Questi strumenti ci permetteranno di operare gradualmente il necessario ricambio generazionale, individuando e integrando i profili anche emergenti più idonei alle attuali esigenze dell'amministrazione. Ha concluso così l'assessore Bernadette Grasso. Il centro storico non sarà depotenziato dal punto di vista scolastico, sono le parole del sindaco di Modica Ignazio Abate, che risponde dopo le polemiche sollevate dal piano di dimensionamento scolastico, che determina per l'istituto comprensivo Santa Marta Ciaceri, la perdita della sede di staccata di Sant'Elena. All'indomani delle reazioni provocate dal nuovo piano di dimensionamento scolastico, deliberato dalla giunta comunale di Modica, arriva la replica del sindaco Ignazio Abate. Il comitato dei docenti dell'istituto comprensivo Santa Marta Ciaceri si è opposto alla perdita della sede di staccata di Sant'Elena, che secondo la ridistribuzione dei plessi degli istituti comprensivi verrebbe accorpata all'istituto Carlo Amore di Frigintini. Al suo posto andrebbe il plesso scolastico del Pirato. Secondo i docenti si verificherebbe una riduzione degli oltre 1.200 alunni a poco più di 1.000, con altre conseguenze quali la perdita della continuità didattica. Il primo cittadino risponde così ai nostri microfoni. Santa Marta Ciaceri è un istituto importante che ha più di 1.000 alunni, quindi non stiamo parlando di istituti di 600, 700, 500, stiamo parlando di oltre 1.000, quindi credo che questo problema è un problema sicuramente falso rispetto a quella che è l'attività. Non è messa in pericolo nessun istituto del centro storico. Pensiamo una volta, c'era messa in pericolo quando, non dobbiamo dimenticare tutti, che Santa Marta era stata messa in vendita nel piano dell'elenazione, abbiamo trovato un piano sequestrato dove non c'era neanche dove mettersi i bambini, non si faceva neanche investimento per quanto riguarda le infrastrutture. Noi abbiamo ristrutturato completamente e adeguato l'istituto di Santa Marta e abbiamo consegnato alla città anche quello di Corso Garibaldi. Pubblicata la nuova mappa del rischio dell'Etna, si basa su una simulazione che ha mostrato il percorso della colata di lava in caso di eruzione. La parte più esposta è quella sudorientale. Simulando il percorso delle colate di lava che dall'Etna possono partire, la zona più esposta è quella del fianco sudorientale del vulcano e dunque risulta essere quella più alto livello di rischio nella quale la popolazione è triplicata negli ultimi 150 anni. E' quanto emerge dalla mappa del rischio dell'Etna pubblicata proprio in questi giorni sullo GSA Bulletin nella rivista della Società Americana di Geologia e il risultato si deve al gruppo del Tecnolab dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia di Catania coordinato dal fisico Ciro del Negro. Bisogna evidenziare, così come emerge dalla pubblicazione, che la pericolosità ci dice quali aree possono essere soggette alla minaccia e al fenomeno vulcanico. Il rischio invece valuta sia la pericolosità sia quante persone e beni possono essere esposte a questa minaccia. I ricercatori del Tecnolab le hanno valutato utilizzando un approccio che ha combinato diversi tipi di informazioni. La differenza tra pericolosità e rischio è questa. La pericolosità valuta le aree dove un fenomeno eruttivo può accadere oppure, diciamo meglio, nel caso delle colate di lava, le aree che hanno più probabilità di essere invaste dalla colata. Mentre il rischio valuta le aree dove la colata può produrre i maggiori danni. Quindi c'è una profonda differenza. Per esempio, nel caso della Valle del Bove, è un'area ad alta pericolosità perché è molto probabile che venga invasta da colate di lava, però il rischio è molto basso perché non c'è nessun elemento a rischio, non ci sono strade, non ci sono città, non c'è nulla che può essere danneggiato. Mentre in una zona urbanizzata, che può essere il fianco sud, la proprietà che venga raggiunta da una colata di lava è bassa, quindi la proprietà è bassa, però c'è un alto livello di urbanizzazione, quindi una singola colata può produrre grandi danni e quindi è una zona ad alto rischio. Presentato questa mattina a Paternò il progetto di recupero e riqualificazione dell'area delle Salinelle, un posto incantevole inserito nella lista di patrimoni naturali da tutelare e preservare. Questa mattina sul posto il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Un luogo unico e suggestivo che non tutti conoscono è quello delle Salinelle di Paternò, ubicate nella periferia ovest del comune in provincia di Catania. Quello delle Salinelle è un fenomeno raro, un'espressione tangibile della meravigliosa potenza della natura in perenne attività. Nel 2016 le Salinelle sono state riconosciute come geosito dall'assessorato al territorio ambiente della regione siciliana e inserite nel sistema delle Salinelle del Monte Etna. Sono state anche inclobate nella lista di patrimoni naturali da tutelare e preservare e questa mattina il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, è stato sul posto per un sopralluogo. È stato illustrato il progetto di recupero e riqualificazione dell'area. Un importante progetto di recupero e di riqualificazione di un'area che è diventata per troppo tempo luogo di passerelle di politici stagionali. Il governo della regione invece ritiene che le Salinelle possa diventare un polo di attrazione dal punto di vista turistico ma anche didattico, accademico, scientifico da integrare con il resto del patrimonio archeologico, monumentale, enogastronomico di una città paternò che ha perso protagonismo nell'ultimo mezzo secolo e che ha il diritto e il dovere di riacquistarlo. Presente ai sopralluoghi vertici dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania è il sindaco di Paternò, Nino Naso. Queste Salinelle avranno il valore che meritano. Paternò ha bisogno di tanto. Questo è un risultato, è una sinergia importante che ho sempre avuto con il presidente Musumeci ma anche con la nostra deputazione. C'è un territorio da attenzionare e abbiamo la persona giusta e anche l'amministrazione giusta che guarda all'interesse della gente. Le risposte che si aspettano le persone sono proprio queste. I fatti, le parole, lasciano il tempo che trovano. Ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità. Grazie a tutti. Oggi e domani in Piazza Matteotti appuntamento con la solidarietà. L'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e il mieloma, ha organizzato la vendita delle stelle di Natale. Il ricavato sarà destinato a sostegno della ricerca e dei servizi che AIL attua in provincia. Appreso il via oggi e proseguirà fino a domani la vendita delle stelle di Natale in Piazza Matteotti a Modico, organizzata dall'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e il mieloma. Sono dieci volontari i protagonisti delle due giornate dedicate alla solidarietà. Il ricavato raccolto sarà destinato in parte a sostegno della ricerca e in parte a beneficio dei servizi che l'Associazione porta avanti in provincia. A Modica l'appuntamento, che in tutte le piazze italiane il prossimo weekend, è stato anticipato a questo fine settimana per questioni logistiche. La prossima settimana si svolgerà infatti ciò comodica e l'Associazione ha preferito anticipare la data. Fondi raccolti attraverso la vendita, tra virgolette vendita, offriamo le stelle di Natale, oppure poi per le uova di Pasqua, tutti questi fondi vanno a beneficio dei pazienti del territorio in cui sono stati raccolti questi fondi. Quindi sono raccolti in provincia di Ragusa e verranno spesi per tutti i pazienti della provincia di Ragusa. Uno dei servizi principali che noi facciamo è quello del trasporto di pazienti che debbono andare in centri specialistici fuori da Ragusa. La banda Città di Modica Belloardo Risadelli questa mattina all'Aves di Modica per un momento di musica e di solidarietà. Per il terzo anno consecutivo la banda Città di Modica Belloardo Risadelli ha mantenuto il suo impegno nell'ambito della solidarietà. Questa mattina infatti è stato organizzato un evento in cui musica e donazione si fondono. Alcuni componenti della banda infatti hanno donato il sangue presso l'Avis di Modica, che ogni anno si radica sempre più nel territorio modicano, una realtà nata grazie a 40 volontari nel maggio del 1981. Da quel momento è stata una continua scesa per l'Avis con costante crescita di numeri. L'Avis Modicane infatti si è sempre contraddistinta per la qualità degli eventi culturali, sportivi e sociali che ha portato avanti nel territorio. Questa mattina infatti ne è stata la prova. L'Avis è presente nel territorio tutto l'anno chiaramente, non è solo per questo giorno importante per la banda Città di Modica Belloardo Risadelli, coinvolgiamo un po' tutta la cittadinanza di Modica, cominciando dalle scuole, facciamo conozione nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori, fino a portarlo alla maggiore età per poter diventare donatore di sangue. Corrado Civello, maestro della banda Città di Modica, ha dunque messo in primo piano la donazione tra le tante iniziative che la banda porta avanti. un momento di solidarietà anche per far capire alle nuove generazioni l'importanza di questo gesto. Siamo qui all'Avis come banda musicale Città di Modica per sensibilizzare appunto alla donazione, la donazione della linfa vitale che abbiamo appunto nel corpo. Non c'è cosa più gesto, più bello appunto della donazione del sangue. È già il terzo anno che la banda musicale Città di Modica promuove questo evento e quindi la giornata nazionale del bandito, fra virgolette, donatore. E con noi ci sono anche dei ragazzi minorenni che pur non potendo donare vengono qui con noi appunto per capire anche il significato di questo gesto molto significativo. Presentato il progetto Expo Green 2020, Modica protagonista del dibattito nazionale sulla sostenibilità e non solo a parole. Il cambiamento è possibile e parte da Modica. Il 30 maggio 2020 con Expo Green la città sarà per quattro giorni al centro del dibattito nazionale sui nuovi modelli di sviluppo necessari a cambiare rotta e non morire di inquinamento. Il progetto ambizioso è stato presentato ieri sera alla Biblioteca Comunale di Modica. Proprio intorno all'idea di circolarità si sviluppa Expo Green, la Biennale Sostenibile che coinvolge la comunità intorno ai temi come le energie rinnovabili, la mobilità alternativa, la produzione a basso impatto, la riduzione degli sprechi, il riciclo dei rifiuti, la valorizzazione degli scarti e tutto ciò che l'economia della circolarità include. Saranno quattro giorni di eventi, dibattiti e convegni ma soprattutto di esperienze pratiche e laboratori, soluzioni ed esposizione di prodotti ai quali attingere per cambiare la nostra idea di futuro. Tutta la città sarà coinvolta a partire dal suo centro storico che sarà diviso in quattro aree tematiche dedicate ad alimentazione, biodiversità, energie e mobilità alternative, economia circolare. Gli enti come il comune di Modica metteranno a disposizione spazi e buone intenzioni e le imprese illuminate sono chiamate a presentare la loro idea di sostenibilità e a firmare, così come tutti i cittadini e le scuole, il manifesto etico che impegna ad adottare comportamenti responsabili per fare un primo passo verso un cambiamento di mentalità. Perché Expo Green, che nasce da un'idea di zero comunicazione integrata, cabina di regia dell'evento e un progetto della città intera e riguardo a tutti. Alle spalle del progetto c'è l'esperienza e la solidità di un comitato scientifico. Fabrizio Nardo, chimico industriale e detentore di brevetti relativi all'economia circolare, traccerà le linee guida per mettere in pratica e tradurre nel concreto i temi dell'economia circolare. Giuseppe Cicero, agronomo di fama, aiuterà il territorio a grande vocazione agricola a riflettere sui temi dell'alimentazione sostenibile e dell'agricoltura 4.0, rispettosa della terra e di chi lavora. Dario Modica, consulente ambientale, indicherà i principi alla base delle città sostenibili. L'obiettivo di Expo Green è portare i concetti di ecologia e di sostenibilità nella pratica quotidiana. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, buona serata. Grazie per averci seguito, grazie a tutti.